Le buone regole di vita che ognuno di noi può avere per addormentarsi e avere un sonno ristoratore e quindi riposante è avere quello che è recuperare o trovare quello che è il normale ritmo. Normalità è una parola che molto spesso è abusata, anomalo può essere qualcosa che è diverso da noi, in realtà la normalità per noi deve essere osservare sempre le stesse abitudini, avere un orario in cui si va a dormire che sia sempre quasi lo stesso, avere un momento del risveglio che sia quasi sempre lo stesso, per cui dedicarsi del tempo, evitare di stressarsi senza dubbio, però sicuramente non andare a dormire tardissimo, sicuramente non andare a dormire dopo aver fatto esercizio fisico o dopo aver bevuto con gli amici o essere andati ad un concerto in discoteca, perché sono tutte cose che stimolano tantissimo il sistema nervoso centrale, dal punto di vista visivo, dal punto di vista uditivo, ci tengono svegli, per cui diciamo che la normalità è cercare di avere degli orari consoni con un buon stile di vita adeguato.